Ad Accadia la situazione ormai è fuori controllo. Ci sono circa un centinaio di casi positivi in una popolazione di 2400 abitanti, quindi la cosa veramente mette ansia e paura nei cittadini. La situazione soprattutto si è sviluppata nella casa di riposo dove sembra che ci siano circa il 90% tra ricoverati e personale positivi al Covid con alcuni decessi e poi anche nella popolazione ogni giorno arrivano nuove notizie di casi positivi e quindi c'è un'ansia diffusa nella popolazione perché si vede un po' abbandonata. Sono fatti alcuni tamponi per quelli che avevano sindrome positivi qui sollecitati dall'amministrazione comunale, ma la situazione è così grave, così pregnante nella popolazione che occorre sicuramente un intervento più deciso per poter far sì che si effettuino i tamponi su tutta la popolazione e si mettano in quarantena tutti quelli che sono positivi e quelli che hanno avuto contatti con i positivi. Se andiamo avanti così questa dovrà diventare una zona rossa perché veramente il virus è fuori controllo, occorre molta responsabilità da parte dei cittadini che non devono fare assembramenti, certamente occorre una sorveglianza degli organi proposti, occorre che ci sia veramente vigilanza e vicinanza ai cittadini che in questo momento si vedono abbandonati e hanno veramente il panico di poter essere aggrediti da questo maledetto virus.